Sindaco Laurenzi, dopo 23 anni in Eretro riabbraccia la Serie D, intanto partiamo da qui. Sì, questa è una grande opportunità, non solo a livello sportivo, mi permetto di dire, ma a livello di comunità. Bisogna saperla coglierla, questa opportunità. Io mi auguro che non solo ci sia il coinvolgimento da parte dei tifosi, quindi già noto un grande entusiasmo intorno a questo nuovo progetto, ma mi permetto di dire, e non solo dire, perché ho già avviato delle interlocuzioni anche con alcuni imprenditori locali, per cercare di prospettare e anche di dare una mano all'attuale società. Certo, nei limiti di quello che può fare un sindaco, io ho molto rispetto dei ruoli, delle prerogative, delle funzioni di ciascuno e l'amministrazione comunale, sotto questo aspetto, io ritengo che abbia fatto quello che doveva fare, lo ha fatto in passato con la precedente società, rispetto alla gestione degli impianti, che sono stati messi a disposizione in maniera corretta, ma devo dire e devo sottolineare a costo zero per la società che ha deciso di andare via e così sarà anche per questa società, nel rispetto di quello che prevede la normativa, però è chiaro che anche qui raggiungeremo un punto di equilibrio importante per chi vuole fare calcio sul nostro territorio. Non è solo un vanto sportivo quello di avere una categoria importante, che comunque il nostro comune, il nostro paese, la nostra comunità ha già vissuto in tempi d'oro, con dei presidenti comunque locali, io li voglio anche ricordare, Luigi Capoferri e Bruno Baldini, che sono stati due presidenti che comunque hanno garantito una categoria importante con grandi impegni economici. Io ringrazio il presidente Luciano Bartolini per avermi chiamato, per aver fatto un discorso molto chiaro dall'inizio, ci siamo guardati negli occhi, io credo che quando due persone si guardano negli occhi già è un punto di partenza importante.